A peggio il nuovo vento. Il pomeriggio da noi è solo good time. R-101. R-101. È ovunque. Accendi la TV sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ascolti la radio. Guardi la musica. R-101. Prurito o bruciore nelle parti intime? Potrebbe essere candida. Gino Canestan Crema. Per un rapido sollievo dalla candida e dai suoi sei sintomi. Gino Canestan, alleato contro la candida. Lo senti? È un sorso freddo che cattura i tuoi sensi. È una musica che rimane in testa. Notte di menta. Un viaggio che inizia. Il gusto riempie i tuoi occhi. È un tuffo al cuore. Una risata dolce. Un finale a sorpresa. È un momento scolpito nel ghiaccio. Un brivido lungo la schiena. Branca menta. Senti il brivido? Dai sempre il massimo. Sai essere impeccabile. E meriti risultati alla tua altezza. Anche quando ti depili. Scegli la nuova linea VetExpert per risultati ottimali. I tuoi peli. La tua scelta. I nostri prodotti. Sole, salsedine, vento. È quello che amo. Ma spesso il bruciore agli occhi è insopportabile. Eumil aiuta a calmare il bruciore rapidamente. Per un rinfrescante sollievo. Che vita fanno i tuoi occhi? Nella gamma Eumil puoi trovare le gocce oculari più adatte a te. Vostruite, adelante, finite il mio palasso. Red Bull for shadows, vamos. Uè, uè, uè. Fermatevi, partita. Red Bull ti mette le ali. Controllato tutto prima della partenza? E il parabrezza? Una piccola scheggiatura può mettere a rischio la tua sicurezza. Basta uno sbalzo termico per peggiorare il danno. E puoi prendere una multa. Prenota subito un appuntamento online. Da Carglass in 30 minuti ripariamo il tuo parabrezza. Parti sicuro ed eviti la multa. Vai su carglass.it. Scegli uno dei nostri centri in tutta Italia. Al resto, pensiamo noi. Carglass ripara, Carglass sostituisce. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Something's got a hole on me, yeah. Oh, it must be love. Oh, something's got a hole on me right now, child. Oh, it must be love. Let me tell you now. Oh, 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 oh. Hey, hey, yeah. Oh, it must be love. Kellogg's. Il buongiorno si vede dalla colazione. In caso di afte, Alovex Protezione Attiva crea una pellicola protettiva che riduce il dolore. Perché sentirsi protetti è un'emozione bellissima. R101 R101 Leave them kids alone All in all it's just a... Oh, put, yeah. Ok, here, questa te...